In piena rincorsa salvezza il penne di mister Iodice dopo il pari nel recupero con il Sambuceto gioca a Città Sant'Angelo contro un arenato curiangolana che arriva da 5 risultati utili consecutivi e solo un gol subito nelle ultime tre uscite. Miani e Fuschi da una parte, Cacciatore e Dadazio dall'altra sono le pedine esperte su cui fare affidamento. Fischia Davide Rompianesi di Modena, cronaca ricca, angolo di Farindolini, velo a liberare Pastafiglia che alza la mira. La risposta del penne è subito letale, sugli sviluppi di un corner Silvestri è il più lesto di tutti e sotto misura, ribadisce in rete, una respinta corta di Marco Tuglio. Miani prova a dare la scossa ai suoi ma il suo colpo di testa non inquadra la porta. Più pericolosa la squadra di casa quando Miani e Ciarcelluti confezionano una doppia palla gol. La difesa ospite salva sulla linea e scampa la minaccia. Alla mezz'ora l'angolana pareggia con Ciarcelluti ma l'assistente sbandiera e ferma tutto per una posizione di fuorigioco che desta qualche dubbio. Sono sempre in erazzurri a condurre le operazioni, conclusione velenosa di Ciarcelluti che sfiora il palo e si spegne sul fondo. Farindolini in buca ancora per Ciarcelluti, D'Amico è strepitoso e si oppone nell'uno contro uno. L'ex Cellucci prima recupera un pallone al centrocampo poi se lo allunga troppo favorendo l'uscita di Marco Tuglio. Secondo tempo che si apre con un colpo di scena, punizione di Cichella, D'Amico respinge centralmente e milizia, ribadisce in rete, il pareggio dei padroni di casa. Squadra di Rachini feroce in contropiede, sterzata di Ciarcelluti che mette in crisi la difesa ospite e sinistro chirurgico per completare la rimonta. Penne in bambola e sugli sviluppi di un corner, D'Amico fa gli straordinari su Miani tenendo in vita i biancorossi e a solo angolana Farindolini manda in porta Lombardi scavetto che accarezza la traversa dando l'illusione del gol. Gol appunto solo rimandato, Ciarcelluti arma Miani che non si fa pregare superando D'Amico per il tris dei Nerazzurri. Abbossa una reazione il penne con D'Addazio che mette i brividi a Marco Tuglio, più consistente invece Silvestri che va vicinissimo al 3-2. Marco Tuglio e il palo gli negano la gioia della doppietta. Si rinnova il duello Miani-D'Amico con il portiere che vola a deviare il colpo di testa dell'attaccante. Finisce 3-1 il derby pescarese al Petruzzi di Città Sant'Angelo, vittoria fondamentale per la Renato Curiangolana, sconfitta che complica maledettamente i piani salvezza del penne. Mister Raghini, una prestazione convincente ed è forse la vittoria più importante della stagione. Sì, è stata una bella vittoria contro una squadra fastidiosa, una squadra di categoria con dei buoni giocatori. Noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo approcciato bene, abbiamo giocato secondo me benissimo sia nel primo che nel secondo tempo. Siamo andati sotto l'unica occasione che ci hanno creato su una palla inattiva, sul calcio d'angolo, però anche nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni nitide. Poi nel secondo tempo siamo orientati col piglio giusto per riprenderla la partita e penso che al di là dei tre gol che abbiamo fatto abbiamo creato altre 5-6 palle col clamoroso. Mister Iodice avete interpretato bene il primo tempo, poi nella ripresa un blackout di 12-13 minuti vi è costato almeno un pareggio. Sì, abbiamo fatto un primo tempo di sacrificio, siamo andati in vantaggio, poi non lo so che è successo, sono bastati 7-8 minuti per compromettere la partita. Puoi prendere anche gol, ma non in quelle condizioni. Stiamo vincendo 1-0 non possiamo prendere delle ripartenze sul calcio d'angolo, quando sappiamo come dobbiamo fare nei calcio d'angolo. Quindi non lo so che è successo, è una squadra che si vuole salvare, purtroppo queste cazzate non le deve fare. Ancora niente è perduto, mancano 5 partite, quindi ci stanno 15 punti a disposizione. Cerchiamo nelle prossime 5 partite di fare meglio, perché comunque oggi la partita l'avevamo interpretata bene, anche se soffrendo il primo tempo, però rischiando poco. Poi dopo, come ho detto prima, sono bastati 7-8 minuti per compromettere la partita, quindi troppo è un limite nostro e se ti vuoi salvare non puoi fare questi errori.